Marina Ripadimiana, cappelli e vestiti iconici della signora dei salotti televisivi. Dal cappello a forma di ragno a quello dotato di una surreale gacchetta con tanto di uccellini variopinti, i look più iconici della signora dei salotti televisivi. Come in ogni aspetto della sua esistenza, anche in fatto di moda Marina Ripadimiana, eclettica signora dei salotti televisivi scomparsa ieri all'età di 76 anni, scompaginava gli schemi e regalava la propria visione di una vita abulsa da preconcetti. Morta Marina Ripadimiana, il toccante addio della figlia Lucrezia Lante dell'arbre. Attraverso abiti e capelli, mai banali, sempre sorprendentemente fantasiosi, Marina colpiva per una spiccata tendenza all'eccentricità, che non era studiata o meditata con lo scopo di attirare l'attenzione dell'osservatore. L'estetica di Marina Ripadimiana era lo specchio perfetto della sua personalità, libera, anticonvenzionale, veicolo di una gioia di vivere che arrivava allo spettatore durante ogni sua apparizione pubblica. Marina Ripadimiana, il videotestamento, ho pensato al suicidio assistito in Svizzera. Dal cappello a forma di ragno a quello dotato di una surreale gagghetta con tanto di uccellini variopinti, i look più iconici di una donna è straordinaria che, con il suo carisma, ha segnato lo spettacolo italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.